Amici Trebi Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato che vedrà ancora correnti fredde raggiungere il Mediterraneo centrale e l'Italia, quindi temperature sempre piuttosto basse ma anche in lieve graduale aumento. La situazione meteo tende un pochino a migliorare. Anche come nuvolosità ritroveremo sì dei nuovi annuvolamenti che interesseranno le regioni del Medio e Basso Adriatico, tra l'altro nella seconda parte del giorno anche il versante tirenico sarà interessato da qualche nuvola però come vedete non mancheranno anche delle belle schiarite. Anche le precipitazioni saranno meno diffuse, meno presenti con qualche nevicata che sarà ancora possibile all'inizio giornata su Basso Adriatico in Puglia intorno allo stretto di Messino ma poi nevicate che lasceranno semmai spazio a qualche piovasco, comunque precipitazioni per lo più di breve durata. Quindi in definitiva ci attendo un sabato con ancora parecchio sole al nord e anche sull'alto tireno. Arrivano un po' di nuvole poi nella seconda parte del giorno sul versante tirenico ma sarà nuovamente specie ladriatico e l'estremo su da vedere un po' di variabilità con qualche nevicata diciamo a inizio giornata in Puglia intorno allo stretto di Messina, nevicate che poi lasciano spazio a delle piogge ma come indicato non mancheranno anche delle schiarite. Con questo è tutto ma per i dettagli vista la situazione potete scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.